Voglio parlarvi del piano di occupazione delle banche italiane, aggiungendo l'aggettivo occulto, perché di queste cose non è che se ne parli molto. La mia tesi in quattro passaggi è questa. Non siamo affatto in crisi da anni, ma siamo in un cambiamento deliberato e pianificato di sistema economico. Questo cambiamento è stato studiato a tavolino per indebitare il sistema privato, per polarizzare il sistema bancario sulla finanza, al fine ultimo, chiaro e semplice, di trasferire la ricchezza dai poveri ai ricchi e ora cerco di dimostrarlo. Intanto voglio ricordarvi una frase di Orwell che diceva le masse non si ribellano mai in maniera spontanea e non si ribellano perché sono oppresse. In realtà fino a quando non si consente loro di poter fare dei confronti non acquisiscono neanche la coscienza di essere oppresse. Allora io ho sentito in questi giorni Claudio Padoan dire che non siamo più in crisi, che c'è stato negli ultimi anni un'inversione. Io vi dico dal mio punto di osservazione, io insegno pianificazione finanziaria e quindi parlo del mondo delle banche e delle imprese. Vi faccio vedere i dati delle banche nei confronti delle imprese. Allora questa è la ripresa che abbiamo avuto dal 2011 al 2017 del prestito alle società non finanziarie, cioè sono le banche. Questa è la ripresa di Padoan. Adesso vi do un altro dato. Questa è la ripresa dei prestiti alle famiglie produttrici dal 2011 al 2017 delle aziende con meno di 5 addetti. Incidentalmente le micro imprese secondo parametri europei sono quelle con meno di 10 addetti e sono circa il 95% delle aziende nazionali. Questo invece è un segnale di mancanza di ripresa a mio parere perché stiamo parlando delle sofferenze delle imprese non finanziarie nazionali, cioè stiamo parlando delle imprese normali. Quindi dal 2010 al 2017 questo è quello che è successo, quello di cui sentite parlare con i cosiddetti NPS, cioè noi performing loans. Questo è un grafico che ho fatto fare dal mio gruppo di studio e che mette in correlazione i prestiti e le sofferenze delle società non finanziarie. Tradotto molto semplicemente, è molto semplice. Quando mia nonna mi diceva Valerio ma cosa stai a studiare? Io mi alzavo presto la mattina, lei mi metteva uno scialle e in dialetto piemontese diceva pover fio, pover ragazzo ma che cosa stai a studiare? Tanto le banche non danno i soldi a chi ne ha bisogno. E qui è documentato, cioè più aumentano le sofferenze del sistema italiano per ragioni che penso dopo magari vi potrà spiegare il professor Bagnai e in quel momento le banche non hanno aiutato il sistema italiano ma per una ragione che dovevano aiutare, questo è il nocciolo che mancano di sottolineare i giornalisti ai risparmiatori perché dovevano aiutare il sistema pubblico ma dopo ve lo faccio vedere meglio. Questa è la situazione, un'altra falsità che vi dicono è che gli NPLs, cioè i non performing loans, sono robe create dall'Italia perché ha fatto di piccole e medie imprese. Questo dice la NUI, questo dice la BCE, questo ci dicono tutti i giorni. In realtà le sofferenze le hanno fatte dal 2007 fino ai giorni nostri, le imprese rosse che sono le grandi imprese, le verdi non hanno fatto alcun problema a livello di crescita del danno del credito italiano, quindi le piccole imprese non hanno nessuna responsabilità a differenza di quello che vi raccontano i grandi giornali. Incidentalmente andate a vedere chi sono i proprietari dei grandi giornali e capite perché danno queste chiavi di lettura. Il numero delle banche quando io ero in Parlamento erano circa mille, oggi si sono ridotte del 40%, ma quello che è interessante capire, quello che succederà nei prossimi anni, io fino a qualche mese fa scrivevo, temo che ci saranno meno di 10 banche sul sistema bancario italiano nell'arco di un lustro, qualche banchiere col quale ho parlato recentemente mi dice, lei si sbaglia professore, guardi che ce ne saranno da 4 a 6, 7, non di più, nell'arco di 5 anni. Ora, gli sportelli bancari in Italia dal 1996 al 2016 sono stati chiusi in vent'anni circa 5.000 sportelli, ma nei prossimi tre anni si stimano a chiusura di altri 3.300 sportelli. Cosa vogliono fare? Vogliono fare un mondo senza banche radicate sul territorio. Io potrei raccontarvi la storia centenaria dell'impresa bancaria italiana che invece aveva il modello di radicamento territoriale, ma non perdo tempo perché come ho promesso voglio chiudere rapidamente. I dipendenti bancari ne abbiamo persi 30.000 negli anni che loro vi raccontano essere una crisi, ma nel prossimo triennio ne perderemo altri 40.000, perché? Perché hanno un piano di togliere il radicamento territoriale. E questa è la ragione, questa è la ragione, cioè, vedete, gli aiuti di Stato, io sentivo dire ieri da, sentivo la trasmissione di Giannino e sentivo un candidato della Bonino che diceva più Europa perché vogliamo l'Europa eccetera eccetera. Quale tipo di Europa? Questa vi faccio vedere, quelli che sono stati gli aiuti di Stato dati dai paesi alle banche. In blu vedete l'Italia, là gli altri paesi e vi ho messo la Germania. Se non è chiaro, ve lo faccio rendere più chiaro, cioè, questi sono gli aiuti di Stato dati dall'Italia alle banche, in blu, e in grigio sono gli aiuti di Stato dati dalla Germania alle proprie banche. E poi vi fanno la morale e tanti italiani dicono sì perché noi italiani siamo cattivi, vi stanno facendo il lavaggio del cervello. Se non è chiaro, ve lo faccio vedere ancora così, in grigio c'è il totale di tutti gli aiuti di Stato dati dalla Germania in quegli anni e in blu sono gli aiuti di Stato dati dall'Italia. alle banche. Poi qui c'è qualche giornalista che dice, ancora in una trasmissione, ero su Sky qualche mese fa, e una giornalista dice, eh sì ma perché i nostri politici italiani dormivano. Cicci, i politici italiani non è che dormivano. Io sono convinti che c'è stato una sera, una notte, qualcuno in Banca d'Italia che ha chiamato le banche italiane e ha detto, cari amici, qui bisogna comprare titoli di Stato, se no salta il sistema Italia, saltano le pensioni, saltano gli stipendi. Quindi è stato un accordo, un accordo pianificato, nel silenzio di tutti quelli che sapevano perché non si poteva non fare così. E quindi l'Italia è stato un paese che ha avuto l'aiuto da parte delle banche private nei confronti dello Stato, poi che ci sia stata una speculazione, questo è un altro discorso. Ora, l'ipotesi però che io avanzo questa sera è che non ci sia nulla di casuale, ma qualcosa di pianificato a tavolino, a tavolino dagli americani all'inizio degli anni 70. E il fatto che si stessero cambiando i modelli economici, io sono venuto qui per raccontare alcune cose, ma anche per ascoltare, ho ascoltato prima sui minibot, di cui tornerò dopo, mi piacerebbe anche un commento di Bagnai su questo, cioè i cambiamenti dei modelli economici che hanno determinato l'economia. Perché loro avevano idea che ci sarebbe stata un'inversione della finanza sulla produzione, in rosso io qui rappresento la finanza e in blu la produzione. Ed è stato studiato a tavolino da alcune amministrazioni americane agli inizi degli anni 70. Poi, sul finire degli anni 70 le hanno applicate, dimostrazione pratica, quella curva teorica, guarda caso, è molto simile alla curva reale. Infatti, verso 30 anni fa, ormai, c'è stato questo superamento del mondo della finanza sul mondo della produzione. E allora, quando mi parlano di crisi e di casualità, ma la crisi, è possibile avere questa lettura della crisi da 10 anni? Cioè, il primo libro di finanza della storia, che tutti forse ricorderanno, è quello che diceva dei sette anni di vacche grasse e magre. Qui ne abbiamo passati già 10 e non si vede alcuna uscita. Perché non può non esserci un'uscita? Perché chiaramente ci hanno convinto, come prima diceva Claudio, che è giusto così. Ma è giusto per la Germania, che vede un miglioramento della disoccupazione e non per l'Italia, che invece è una situazione opposta. E guarda caso, l'incrocio delle due curve è proprio nell'anno della cosiddetta crisi. Fu vera crisi? Questo grafico ve lo faccio perché io penso che sia il modo più semplice di spiegare. Ve lo faccio molto chiaro. Verde, no euro. Rosso, euro. Verde, no euro. Rosso, euro. Ve lo devo rispiegare. Quando non ci agganciamo all'euro, la nostra produzione va su nei confronti della Germania. Quando c'è stato il discorso E, Cus, me è credibile, eccetera, è andato giù. Poi nel 92, svalutazione della lira, eccetera, e ritorniamo su nel 97, aggancio e crolliamo da 20 anni. Cioè questo basterebbe fare un volantino e spiegarlo come dire ai credenti. E non è un disegno casuale questo, perché questo ha comportato l'interesse di coloro che avevano l'interesse a quella moneta lì. Non dovevano metterci la faccia, come ha detto Claudio, perché erano i miliardari. Se io sono miliardario, con l'euro aumenta la mia ricchezza. Difatti aumenta in tutti i paesi, in Germania, in Regno Unito, in Francia, in Italia, in Svezia e via discorrendo. Ma qui, io qualche mese fa ho sentito il ministro Lorenzin che mi spiegava che le donne non fanno figli per motivi sociali. Allora io ho chiamato alcuni ragazzi e gli ho detto fatemi un po' questa piccola indagine. Ho fatto mettere sostanzialmente in correlazione la fertilità delle donne con il risparmio in Italia, dall'anno 1970 ai primi di questa decada. E cosa abbiamo scoperto? Beh, abbiamo scoperto l'acqua calda, cioè che quando il risparmio è alto si fanno più figli, perché incidentalmente per avere figli servono i biberon e i pannolini. Ma poi ho detto mettetemi anche in correlazione un altro dato che forse era meno scontato, cioè ho detto mettete in correlazione dal 1980 fino a questa decada la spesa per interessi nei confronti del sistema bancario privato, perché abbiamo perso la banca pubblica e noi paghiamo per delle banche private, spese per interessi a mio parere assolutamente ingiustificate. Ed è chiaro che quando noi paghiamo i banchieri privati le donne non fanno più figli. Questa è la mia affermazione. Ora, questo disegno, questo disegno dicevo non è un disegno evidentemente particolarmente originale, lo si sa, basta andarle a cercare queste cose, sono di dominio pubblico. Questo per esempio è la dinamica che c'è tra la produttività e i salari quando cambia il sistema economico, la produttività continua a salire, perché entrano in gioco delle teorie neoliberiste e invece i salari si appellattiscono. Quindi nulla di casuale, tutto studiato a tavolino 30-40 anni fa. La crisi a mio parere non esiste, perché il punto fondamentale è tu sei nel 10% dei ricchi che si mangia il 70% della torta, questa è la distribuzione della torta in Europa. Oppure sei nel 40% dei poveri che si mangia l'1% di tutta la torta. Però il problema è sul decidere se votare Bagnaio, Borghi o altre persone che raccontano altre cose. Ah ma io sono nella classe media quindi no. La classe media sparisce, non so se l'avete capito. In questo disegno la classe media che è già sparita per certi aspetti sparirà. Allora qui vi faccio vedere semplicemente come il cambiamento deliberato e pianificato di queste cose ha spostato i tassi di crescita. In blu i tassi di crescita dei poveri, in rosso i tassi di crescita dei ricchi. È chiaro dal 1949 ai giorni d'ostri voi vedete chiaramente che non mi sembra difficile capire qual è stato il trend. Ora incidentalmente io sento continuamente parlare del debito pubblico in questi giorni, io cerco di sentirle poco queste robe ma purtroppo ci inciampo, poi cambio canale appena posso, ma quei 3-4 secondi li vedo, vado a Milano mi fanno vedere il debito pubblico che aumenta. Ora incidentalmente il debito pubblico fino al 1981 non era un problema non controllabile, nel momento in cui c'è il divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia lì esplode e il vero problema è un altro, il vero problema è un altro. Il problema è ma perché non si parla, ma perché nessuno vi parla mai del rapporto non debito pubblico ma debito privato? Cioè ma perché nessuno ricorda mai o pochi ricordano che il debito privato va dal 120 al 180 incidentalmente e perché lo chiedo ai signori del Sole 24 Ore che dicevano fate presto, fate presto, titolavano otto colonne per fare venire Monti perché cresceva il debito pubblico, perché non fate presto quando aumenta il debito privato? Questo chiederei ai signori del Sole 24 Ore. Ora anche qui ve la spiego in due secondi insomma perché non bisogna essere come Claudio esperto di queste cose? Linea verde, no euro, cresciamo, si euro, crolliamo. Cioè questi grafici non sono difficili da capire. Ora questo è l'indice di produzione nel confronto fra Italia e Germania, lo vedete? Quando non c'è l'euro cresciamo, quando entriamo nell'euro crolla. Anche qui lo dico a chi deve fare attività politica, fotocopia, non è difficile da spiegare alla gente, ok? Allora incidentalmente questo è un disegno mondiale, dal 1947 al 1979 tutti, tutti crescevano perché c'erano politiche che erano politiche di espansione. Quando hanno cambiato i modelli economici quello che succede è che i più poveri crescono dell'1%, stiamo parlando di dati americani, quindi non sono quelli italiani, del 224% invece la fascia dei più ricchi. È un disegno, punto. Ora incidentalmente vi faccio osservare una piccola cosa che trovo curiosa. Allora il gross domestic product, il PIL della Germania, 274 milioni, il totale dell'eurozona 9,6 trilioni e la Deutsche Bank ha in pancia derivati per 54 trilioni, cioè sei volte tanto quello che è tutto il PIL dell'eurozona. Ora io incidentalmente faccio tre semplici domande a Draghi e tre domande sono, uno, ma è così sicura la Germania? due, ma è così sicura la Deutsche Bank? E soprattutto tre, perché la BCE non si occupa di questo problema e da anni ormai parla soltanto dei non performing loans delle banche italiane che sono un dodicesimo di questo problema qua? Non è che ci sia anche qui un disegno, poi mi danno del complottista. Ma signori sono i grafici che fanno i complotti, non io. qui non bisogna essere complottisti signori, come è andata la povertà in Italia? In dieci anni i poveri sono triplicati, questi sono dati di fatto, dieci anni poveri triplicati in Italia. volete continuare così? Ora vi faccio vedere ancora questo, questo grafico è interessante perché sono dati della stabilità finanziaria del 2017 di Banca d'Italia. Allora ho messo tre box, in rosso le imprese rischiose, in giallo le imprese vulnerabili, in verde le imprese invece sane. Allora cosa dice questo grafico? Dice nel 2017 le imprese rischiose non ottengono credito, cioè il credito si restringe per tutti e fin lì mi può anche andare bene. Se vado a vedere le imprese vulnerabili, cioè quelle che non sono né bianche né grigie, ma sono, scusate né bianche né nere, ma sono grigie, succede una cosa un po' particolare, le banche stanno dando soldi alle imprese medie e grandi e non danno soldi invece alle piccole medie. Se andiamo a vedere dai dati di Banca d'Italia cosa succede sulle microimprese, notiamo che le microimprese sane sono in credit crunch, cioè le banche gli tolgono soldi. Non so se state capendo, sto affermando che si sta creando in Italia un sistema bancario finalizzato a dare i soldi ai grandi e non ai piccoli. Capito questo? Basta vedere i dati. I prestiti ottenuti in Italia dal sistema bancario sono il 10% dei soggetti italiani ottiene l'80% del credito, quindi tutto il 90% di imprese e famiglie complessivamente ottiene il 20% del credito. A me non pare una questione di scelta, pare una questione di equità. Ora i famosi NPLs, le sofferenze in Italia sono generate per l'81% da quel 10% di soggetti di cui parlavo prima, tutto il resto, cioè tutto il mondo delle famiglie dei 4.900.000 piccole imprese italiane non fanno nemmeno il 19% dei problemi. Eppure, eppure tutto il sistema finanziario se la prende solo con loro. Allora, domanda, perché succede tutto questo? Semplice, andiamo a vedere di chi sono le banche cosiddette italiane. Banco BPM, proprietà, i primi azionisti, fondi banche di investimento stranieri, BIPER, fondi banche di investimento stranieri, CARIGE, fondi banche di investimento stranieri, CREDEM, fondi banche di investimento stranieri, CREVAL, fondi banche di investimento stranieri, INTESA, fondi banche di investimento stranieri, Mediobanca, devo andare avanti, fino a che arrivate in fondo e trovate che c'è in queste imprese qualche banca italiana. Poi andate a vedere che questa banca italiana si chiama Unicredito, andate a vedere di chi è l'Unicredito e trovate fondi e banche di investimento stranieri. E la domanda faccio, ma di che sistema italiano stiamo parlando? Non c'è più. È chiaro il concetto. Allora, incidentalmente, è passata una riforma di Renzi, nel 2015, che ha chiesto anche la trasformazione delle popolari. Non è questa la sede per parlarne, ma incidentalmente ci sono ancora dei mondi da tutelare. Ora, la mia proposta che faccio, perché voglio lasciare ancora in questi ultimi due minuti, tre minuti, qualche spunto agli amici Borghi e Magnai, perché mi piacerebbe che, se ci sarà questo governo, io immagino che loro abbiano un ruolo importante all'interno di quella cosa, io vi lascio alcuni spunti di riflessione, naturalmente da studioso. So benissimo che è difficile realizzarli, però mi piace lasciarli. Uno, sovranità monetaria. Cioè, questa roba qua, da cui è partito Borghi, è il punto numero uno. Se non si parte da qui, tutto il resto non esiste. Questo è il punto numero uno. Poi punto numero due, abolizione del modello di banca universale, che è una roba che è stata voluta da un signore di nome Clinton, che rimarrà più probabilmente famoso alla storia per una fellazio, ma che invece ha fatto la cosa peggiore del mondo, molto più grave, perché in realtà ha comportato di rimettere insieme il modello di banca universale. Quando invece Roosevelt, molti anni prima, con due signori di cui adesso non sto a raccontare la storia, aveva diviso le banche speculative dalle banche di produzione. Sarebbe molto semplice. punto numero tre. Ora, punto numero tre. Io voglio una banca centrale pubblica. Ma lo dico da cittadini italiani, la banca d'Italia deve tornare ad essere pubblica. Ed è inutile che mi faccia un discorso istituto di diritto. Cioè, andiamo a vedere chi sono gli azionisti. Basta prenderci in giro. Quattro. Qui, naturalmente, è, come dire, il cavallo di battaglia del professor Bagnai. Lo ascolterò certamente con piacere. Politiche espansive, politiche economiche anticicliche. Noi siamo dieci anni che siamo politiche procicliche, detto in termini semplici. È come dire che, che ne so, per spegnere la sila bisogna passarci sopra con i Canadair e buttare giù del gasolio con gli aziendini. È la stessa roba, eh? E noi ci crediamo da dieci anni. Poi, difesa del sistema bancario italiano, incidentalmente vi ricordo che recentemente Asso Popolare ha mandato una lettera a tutte le forze politiche, quindi anche a noi, chiedendo sostanzialmente cosa facciamo? Perdiamo anche il mondo delle popolari, perdiamo anche il mondo delle banche locali, perdiamo anche quello che ci rimane. Sei, togliere il fiscal compact dalla Costituzione italiana, perché questo è un crimine, questo è un crimine. Sette, sette, l'Unione Monetaria Europea deve rispettare la democrazia. Allora, le condizioni sono due. O l'Unione Monetaria Europea rispetta le regole della democrazia, o scusate, io non sono contro l'euro, sono contro l'Europa, perché non è democratica. Punto. Cioè, non è che ci giro tanto intorno, non è che ci giro tanto intorno, ma scusate, se il cane mi entra in casa con le zampe sporche di fango e mi impiastriccia il tappeto, non è che me la prendo col tappeto, me la prendo col cane. Vabbè, ho detto un'eresia, lasciatemela dire. Otto, combattere il piano di deflazione salariale, perché tutto questo è finalizzato alla deflazione salariale, e di nuovo qui cose che il professor Bagnai meglio vi può spiegare. Nove, abolire le logiche del bail in e bail out, basta, francamente ci siamo stufati. Dividiamo le banche, molto semplice, volete giocare in borsa, poi però se andate a puttane, sono cazzi vostri e non pagano i cittadini. Punto. L'ultima cosa, l'ultima cosa è chiudo, questo lo chiedo a Bagnai e Borghi, se avranno responsabilità, come io prego e spero nel prossimo governo, per favore trovate il coraggio di dire a qualcuno a livello internazionale che bisogna istituire questa roba qua, la creazione di un tribunale internazionale per crimini, per crimini, per crimini, per crimini finanziari, perché non hanno pagato gli anziani, non hanno pagato i malati, hanno pagato, scusate, hanno pagato solo queste persone, non hanno pagato i criminali. Ora, va bene, io penso di essere stato nei 20 minuti, vi dico soltanto che quel signore dal quale ho partito diceva che nel tempo dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario, qualche volta dire queste cose fa arrabbiare qualcuno, mi dispiace, anzi, non me ne strega proprio niente, sono contento di averle dette.